buongiorno amici questa è la mattanza che sta succedendo all'icata ma nessuno ne parla nei tg negli enti locali nessuno che ne parla questa è una mattanza dopo il prodotto finito pronto a raccogliere non lo possiamo vedere nemmeno 0,05 però se andate a vedere al nord la grande distribuzione lo sta avvenendo a 3 euro c'è qualcosa nel sistema che non funziona vedete un po voi fate girare fate girare per piacere fate girare questo è quello che sta succedendo adesso oggi nessuno che prende seri provvedimenti questo vengono tutti sono tutti deteriorati nemmeno la politica locale né quella nazionale e nemmeno quella europea diciamo così questo è quello che sta succedendo fra ricata e palma il fiore all'occhio